Fironi! 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 Un attacco contro i nostri soldati che sono lì in missione di pace, un attacco che purtroppo ha portato a morti e feriti. Non posso assolutamente permettere al signor Trovaglio di poter far pensare all'italiano generico medio che il soldato italiano parte per fare la guerra. Il soldato italiano si parte per portare la pace in paesi martirati dalla guerra. Io ci ho rimesso le gambe e sono fiero per quello che ho fatto. Sono ragazzi che sono tornati in bar e a volte da altri colori per cercare di portare la pace, per cercare di portare a bambini un sorriso. E di questo ne vado fiero. Fironi! 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 Grazie a tutti